Ciao a tutti, siamo a Ravello, in costiera amalfitana, per vedere la terrazza dell'infinito a Villa Cimbrone. Hi everybody, we are in Ravello, on the Amalfi Coast, to see the infinity terrace at Villa Cimbrone. Come puoi raggiungere Ravello? Puoi venire a Ravello in auto e parcheggiare, ad esempio, al parcheggio Piazza Duomo. Attenzione che la strada percorre in auto è abbastanza stretta e nei periodi di particolare affollamento potresti fare fatica a trovare il parcheggio. How can you reach Ravello? For example, you can come to Ravello by car and park at the Piazza Duomo Car Park. Beware that the road to travel by car is quite narrow and in periods of particular crowd you may struggle to find a parking space. Puoi anche venire a Ravello in autobus partendo da Amalfi, grazie alla linea Amalfi-Ravello-Scala. You can also come to Ravello by bus from Amalfi thanks to the Amalfi-Ravello-Scala line. Ad Amalfi, come puoi vedere, la fermata dell'autobus si trova vicino alla spiaggia, il pullman si porta a Ravello e la fermata del pullman dove puoi scendere è molto vicina a Piazza Duomo. In Amalfi, as you can see, the bus stop is near the beach, the bus takes you to Ravello and the bus stop where you can get off is very close to Piazza Duomo. Da Piazza Duomo puoi arrivare a Villa Cimbrone a piedi. Tieni presente che la strada per arrivare alla villa è in salita e ci sono diversi scalini. From Piazza Duomo you can reach Villa Cimbrone on foot. Keep in mind that the road to get to the villa is up here and there are several steps. I see how this works. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.